Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie Minecraft Napoli Edition Questa sarà proprio una serie straordinaria Perché sarà la prima serie a roba di una persona che ha commentato i suoi napoletani Ma sicuramente qualche parola non la sace Perché effettivamente non sono abituato a parlare in dialetto napoletano Però ci vediamo però E sicuramente saranno esperimenti interessanti Quindi partiamo subito Ho legno e ce l'ho gippiato Ma semplicemente perché sti serie Minecraft sono sempre uguale C'è parto video, se piglio legno, se fanno il materiale e tutte sti cose accussiali Io volevo partire in un modo un po' differente E magari cerchiamo già una caverna Magari la troviamo in alternativa Ci facciamo una palla e scaviamo Ma l'unica palla è che la fama già c'è fornuto Quindi mi sa che abbiamo acceduto un po' i peggiori Mi dispiace Perdonatemi, voglio Ecco qua Adesso ci sa che stiamo accedendo Quando teniamo Guarda, teniamo tre carne Troppo poco voglio secondo me Però vabbè ci facciamo basta Penso da Almeno per correre ci facciamo, sì Oh, quello qui forse l'ho già trovata Sì, 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 sì Ho già trovato una caverna Allora, rimetrasi qua però Facciamo così Abbiamo nato un po' che legno Che così ci facciamo di stick E ci putiamo crafta e torce Propriamoci pure un po' che prete A così putiamo scavare meglio E teniamo pure una spada più forte Oh maronna mia Via, via, zombie Vattene, vattene Mettiamo un bang ca Iniziamoci a fare un piccone Che così ci putiamo a prendere il carbone E ci facciamo pure torce Scendiamo un po' che vediamo la situazione con me Già si riusciamo a trovare un po' che fear Forse stiamo a posto Perché l'obiettivo oggi Sicuramente sarebbe trovare un mineral Per chi non sapesse Fosse nei diamanti Oh il loco Fierro io Vabbò Stiamo qua vicino Sì, mi è uscito proprio giusto un po' Vabbò Anzi, in realtà Il loco Fierro Ma come lo cuciniamo Se potessimo fare con uno scudo Che sicuramente c'è utile Oh Te faccio esplodere Oh Oh maronna mia Ma voglio Non riesco a trovare un po' di carbone Ma com'è possibile Io sto facendo il capione Mannaggia Pubaccia Secondo voi C'ha faccia Zumba in dall'acqua Senza prendere danno Scopriamolo No Ok Vabbè Sono caduti in dall'acqua Ma Magici Oh minerale Oronapola Oh minerale Oronapola Ce l'hanno fatta Oh che ammazzo Bellissimo Bellissimo Ok 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 Caccio il suo minerale Però Però Uuuuh No voglio Maro Se muoio Adesso è finita Non tengo manco Magna Maro Stiamo proprio Mise male Dammi un po' di carne Dammi un po' di carne Perché se mi riesco a da tutta Ma perché Dai No 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 Maronna mia Aspettate Io ho Degli assi di quercia Ho proprio ieri Che avevi vinto a me Stare dicendo Ma scusa Io sta sering E usare come carburante Effettivamente Non è una brutta idea Così Craftiamo perlomeno O scudo E cercami a parare qualcosa Vorremmo un attimo Casi riuscimmo a cocere tutto E facciamo così Ok Penso che è stata una buona idea Perché mo facciamo così Facciamoci pure sta spada Cà Ma teniamo comunque Un equipaggiamento Che è proprio superiore Andiamo a aprire E sopra più Uuuuh Ma com'è Ma non l'avevo visto proprio Ok 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 Vai 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 Mamma mia Stasera Per me Per me Questa è già una vittoria Ma il problema È cammato Lo sapevo Cioè Allora Voi avvi da capire Che serie Mie minecraft Sono sempre così Cioè Io Quando faccio il short Quando faccio il minecraft Ma è fornation Che moro Cioè E perché effettivamente Quando faccio il minecraft Moro sempre Ma com'è possibile Cioè Io ci provo Non ho chiuso a stasera Ma mi Può parare E comunque Sono morto Ah poverino Se io riesco a trannare Da volta Sì C'è sta roba C'è sta roba Aspettate Aspettate Tengo scudo Tengo scudo Tengo scudo Non tengo scudo Ma sono giocati Io o non lo vico proprio Oh 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 Abbiamo vinto Ok Chi sta malato Pura la carne Meglio così Perché ha già mangiato In realtà Se riuscisse a trannare Un poche fir Potessimo fare pure Una vaschetta Oh ma roba Ci vince tutto il coso Quanti ne abbiamo 4 decine Ma ci fa pure Buono onestamente No l'unico problema Effettivamente È che Basilare No 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 Botto di capodanno Vai via E può morì Ehi Cazzo more tipo subito C'è ma fa Poi pò Poi pò Attenzione Poi rimascava C'è accorto Una caduta d'acqua C'è spezza Poi c'è coscio Non ne vale la pena Con la giusta accortenza Forse Riuscimmo a cochiare Qualcose buone No mettiamo giusto Una torcia C'è così C'è ricordiamo Cazzo E vorrimono poche Cazzo sta Una domenica C'è rimasco Il bito Perché Poi fa ma C'è sta Me ne servono Avete capito Che così Ci hanno fatto Praticamente Ah mo ci hanno fatto Così Ci hanno appoggiato Il diamante E mo ci abbiamo Pure il diamante La Ci abbiamo Poggiato l'ossidiana E teniamo pure Giù portale Poggiato Ci abbiamo Poggiato Un poche Acqua Solo che non mi saprei dire Uè Unito per mettere Proprio Ah ecco qua Tra l'altro Siamo pure Poggiata Pazzia Con la moda Della napoli Craft Ma c'era un problema Ma ogni foto che scavavo Praticamente Poggiava danno Non faccio Perché E quindi Addio napoli Craft Ma fa capato Se sbaglio Mi c'è Maronna Mi Andiamoci subito A pigliare Di diamante Logo E magari Poggiato Ce ne saliamo pure Perché Inizia a essere Troppo pericoloso Dopo che tengo Quindi diamante Non vale la pena Perderli Ma se lo sta accorti Però i mob Che c'è Da niente Se muore 25 diamanti Ci ho fatto Un furto Cadendo Mamma mia Poggiato Facciamo Scimita Ad i diamanti Quota 30 diamanti Qua io ci vediamo In coppia Perché Sti diamanti Non l'amma Perder Non l'amma Assolutamente Perder Penso Che si Mi S'aiuta Roppi 50 Anno Per In Un Poggio Si Mi S'aiuta Ma magari Tappiamo Su buco Che non ci piace Proprio Sapete Quale è la cosa Io ci pensate Ma perché Non rendere Sta cosa Ancora Più Pazzo Partendo Dal presupposto Che Non Ne Bicetto Cioè Che Che Ne Ne Azzurro Ma per fortuna Si Mi S'aiuta Un Coppa No Post Catena Betul Che Effettivamente Bianca No Cioè Penso Cavallo Come Bianco Piiamo C'è Sto Legne E Iniziamo A craftare Una casa Avis Ma Indone Eder Ma Ricordo Come Quest Voglio La situazione Attuale Era Base Ed E Pure Bellino Perché Cade Lì E Spettacolare Cioè Troppo Bello Teniamo Pure I Pesci Quindi Volendo Potessimo Fiscale Dico Sinceramente E Nega Sono Esperto E Billig Quindi Sono Arrangiano Però Magari Se ci Penso Che Cosa Cusi Riesca A Fare Un Bello Progetto Partimo Facendo Accusi E Vi Diciamo Che Ecco Qua Diciamo Che Questo Fosse In 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 Arrangiano Poco Davvero Mangiare E C'è Ma Mettere Spone Perché Se In Gio Riusci Ma Mettere Spone Stam Acceso E Vabbè Voglio Questa Puntata Io Dico Che Tutti C'ha Ma Farnia Basta Vabbè Ci Aviano Pochi Materiali Però La Cosa più Importante E Cosa